In questa prima video lezione cercheremo di chiarire il significato del termine fake news e il significato appunto di disinformazione che è ad esso collegato e che forse rende ancora meglio il concetto di una semplice traduzione dall'inglese all'italiano di fake news. Partiamo quindi dalla definizione, il termine inglese e fake news vuol dire letteralmente notizie false, però ci rendiamo conto e ce ne renderemo conto in queste lezioni che non si tratta sempre di notizie completamente false, cioè false al 100%, ma molte volte si tratta di notizie con un fondo di verità e manipolate, usate in maniera ingannevole, distorte, con interventi appunto su video e foto per appunto contestualizzarli in situazioni differenti. Quindi probabilmente più che di fake news e quindi di vere e proprie notizie false, dobbiamo probabilmente parlare di vera e propria disinformazione, quindi un deliberato intento di disinformare e questo è quello che c'è di fatto dietro le fake news. Ecco perché le fake news diventano ovviamente pericolose per tutti. Un tempo erano i giornali quelli che veicolavano queste fake news, oggi naturalmente la stragrande maggioranza delle fake news girano sui social, quindi Instagram, Facebook, Twitter e quindi andando su questi social dobbiamo stare attenti e dobbiamo riuscire a ponderare, a capire appunto che cos'è questa fake news e a difenderci. Ma questo secondo aspetto lo vedremo in una successiva video lezione. Il nostro lavoro parte dalla riflessione di Claire Wardle, che appunto ha individuato sette diversi modi di fare disinformazione. La studios americana è partita dalle elezioni americane di ormai quasi quattro anni fa, che hanno segnato la vittoria di Donald Trump e lì ha provato a tirare fuori una sorta di grammatica di queste fake news. Naturalmente il contributo della Wardle noi lo leggiamo mediato da appunto autori italiani che hanno riflettuto su questo articolo. Allora cominciamo a vedere quali sono i sette modi per disinformare. Il collegamento è ingannevole, il contesto è ingannevole, il contenuto manipolato, la manipolazione della satira, il contenuto forviante, il contenuto ingannatore e il contenuto falso al 100%, cioè quella che noi poi possiamo chiamare a tutti gli effetti questa, una vera e propria fake news. Cominciamo dal contenuto ingannevole. Diamo naturalmente una definizione, il contenuto ingannevole o falso collegamento è quella tecnica pseudogiornalistica che prevede l'uso di titoli sensazionalistici, cioè immagini in evidenza incredibili o assurde create appunto per attirare l'attenzione del lettore. Spesso capita che il titolo non rispecchi quel reale contenuto dell'articolo, del messaggio e quindi chiaramente sono tutte queste tecniche, questa manipolazione, questa disinformazione è fatta più che altro per uno scopo economico, cioè quante più volte si clicca, in questo caso anche perché per sbaglio naturalmente, su un determinato banner, tanto più naturalmente il sito riesce a avere dei vantaggi economici in tal senso. Uno degli esempi più eclatanti, questa volta non legato alla campagna di Donald Trump, è questo titolo sensazionalistico, i gentiloni italiani imparino a fare sacrifici e a smettere di lamentarsi, che portava una pagina appunto di estetica. Il contesto ingannevole. Allora, quando il contenuto reale è accompagnato da informazioni contestuali false, e partiamo sempre dalla campagna pubblicitaria di Donald Trump, che pretendeva dimostrare delle immagini di migranti che superavano il confine tra il Messico e gli Stati Uniti. In effetti, quelle immagini erano vere, ma facevano riferimento a un altro contesto geografico, quindi ci troviamo naturalmente in Marocco, e quindi si trattava di una vera e propria manipolazione, questa volta non del contenuto, ma del contesto. Quell'immagine era stata appunto utilizzata da Trump per veicolare uno dei capisaldi della sua campagna politica, questo famigerato muro che aveva intenzione di costruire tra il Messico e gli Stati Uniti d'America. Un'altra fake news importante fa riferimento a questo aspetto, cioè al contesto ingannevole, è quella pubblicata da Avvenire, in cui appunto si faceva riferimento ad alcuni orrori che succedevano nei campi libici. Ora, il problema non è che nei campi libici non ci fossero prigioni dove venivano perpetrati degli orrori indicibili, soprattutto sui migranti, prima del loro viaggio della disperazione del Mediterraneo. Qui il contesto ingannevole era legato al fatto che quelle foto facevano riferimento al 2011, quindi foto vecchie utilizzate per uno scopo invece di ben sette anni successivo. Vediamo ora il contenuto manipolato, cioè cosa vuol dire quando l'informazione reale o l'immagine viene manipolata per trarre l'inganno, quindi una vera e propria manipolazione di questa immagine e lo vedremo con alcune foto. Ancora un'oltre riferimento alla campagna elettorale delle preelezioni negli Stati Uniti e vediamo un pochettino che cosa è successo in queste foto. Questa praticamente è la foto che era stata appunto girata, che aveva fatto il giro appunto dei social, per incutere quasi paura, per non far andare a votare gli americani. Qui si vede proprio come un poliziotto sta arrestando un signore che era in fila per andare a votare. In effetti dove sta l'inganno? L'inganno sta nel fatto che facendo una ricerca su Google di questa foto, si è visto che questa foto risaliva non alle elezioni in America, ma alle primarie e quindi di qualche mese prima, sempre in Arizona, ma il poliziotto che compariva nella foto in primo piano non c'era. Quindi di fatto questi poliziotti erano stati aggiunti e questo probabilmente sempre per uno scopo ben preciso, insomma vedremo, cioè Trump in quelle elezioni si augurava che molti elettori, ovviamente, di Clinton rimanessero a casa e quindi non andassero a votare. Un'altra foto famosa è questa, insomma, cioè un'immagine, quella che appunto abbiamo a sinistra in alto è la foto manipolata, quello che abbiamo appunto invece in basso a destra è la foto reale, quella originale. Anche in questo caso, ma lo vedremo in una prossima video-lezione, andare alla ricerca su internet appunto di queste foto ci permette appunto di capire dove c'è l'inganno. E andiamo alla manipolazione della satira, allora, cioè non c'è tanto inganno in questo, ma è soltanto, diciamo, quindi non tanto per trarre l'inganno, quanto soltanto per, diciamo, per ridere, insomma, colpendo alcuni degli uomini politici più influenti. Quindi di fatto non c'è un vero e proprio procurato danno contro qualcuno, insomma. Famoso l'esempio, riportato appunto dalla Waldorf, che è di un Chuck Todd che ha intervistato Rudy Giuliani e durante appunto una trasmissione lo ha incalzato facendo presente, insomma, un tweet, o meglio un tweet a lui attribuito, che così commentava il primo dibattito pubblico tra Trump e Hillary Clinton. In questo tweet si diceva questo dibattito non è stato il migliore di Donald Trump, ma ce ne sono ancora altri due. Questa è l'immagine appunto del tweet e naturalmente incalzato da Giuliani che invece affermava di non aver mai twittato queste parole, Todd alla fine è stato costretto a spiegare che appunto si trattava di un tweet proveniente da un account satirico, ecco qua, insomma, quindi per prendere in giro il sindaco. E andiamo al contenuto fuorviante. Il contenuto fuorviante può essere, per esempio, la pubblicità aziendale, immaginiamo lo spazzolino, quello usato e consigliato dai dentisti, o immaginiamo insomma quello che può essere le teorie pseudoscientifiche dei no-vax che appunto un'immagine, un'interpretazione di un dato specifico viene trasformato a regola, cioè che in alcuni casi estremamente rari alcuni vaccini possono portare all'autismo, casi eccezionali, insomma, dell'ordine dello zero virgola, vengono trasformati invece in casi talmente eclatanti, anzi addirittura nella maggioranza dei casi veri e propri da parte di questi sostenitori del no-vax proprio per spingere a non far vaccinare i propri figli. quindi un'operazione fatta ad hoc dove viene preso un solo elemento decontestualizzato e portato naturalmente come l'elemento principale con valore scientifico, ma ovviamente diventa un pseudoscienza per convincere gli indecisi. Il penultimo modo per disinformare, secondo appunto Claire Wardle, consiste nel contenuto ingannatore, cioè quando il contenuto viene spacciato come proveniente da fonti realmente esistenti. Andiamo a vedere un pochettino e che cosa si tratta nello specifico. Durante la campagna elettorale degli USA Eric Trump e la portavoce Kaylian Conway hanno entrambi retweetato una notizia proveniente da una versione fake del sito ABC. Quindi è il sito, è la fonte che è ovviamente ingannevole. Andiamo a leggere appunto questa è la notizia, retweetata appunto. Andiamo a vedere un pochettino il, diciamo, questo sito abcnews.com.co Ecco, è proprio in questo indirizzo, dominio web, che noi riscontriamo appunto la falsità della fonte. E quindi dobbiamo stare attenti, attentissimi a tutti questi che si sotterfuggi. E questo è successo insomma anche per altri giornali, mezzi di informazione come il New York Times o il Daily Mail. Ovviamente c'è anche un sito, dice appunto la studiosa qui stiamo lavorando, Clone Zone, che permette di fare queste operazioni con estrema facilità. Ma noi dobbiamo stare attenti, vedremo in un'altra lezione come possiamo intercettare questi siti che sono appunto farlocchi, quindi sono costruiti a bella posta per produrre fake news. Questo è un altro caso di sito ingannevole, in questo caso naturalmente il tutto si vede dal fatto quotidaino, eccolo qua, non quindi tanto dall'url quanto dall'errore presente appunto nell'intestazione. e ovviamente si tratta del fatto quotidiano e non del fatto quotidiano. Questo ci deve portare appunto a dubitare di queste notizie. Passiamo all'ultimo modo, quello che sarebbe appunto per diciamo l'ultimo modo per disinformare, che è la vera e propria fake news, cioè il contenuto falso al 100%, quindi deliberatamente costruito per disinformare e ingannare. È un contenuto appunto falso al 100%, ci sono tanti contenuti che sono totalmente falsi, fabbricati appunto per distribuire menzoni, bugie o fatti e misfatti, mai accaduti, con fine particolarmente specifico, cioè quello di spaziare dalla propaganda politica e quindi colpire naturalmente l'avversario alla monetizzazione perché naturalmente basta cliccare quanti più sono i click su quel banner e su quel cookie tanto più ovviamente si guadagna. Quindi qui veramente ci troviamo di fronte alle notizie palesemente totalmente completamente false. Questi contenuti nascono all'interno di piani editoriali pensati per forviare l'opinione pubblica, quindi non sono soltanto il gioco di ragazzi o peggio un particolare target di persone. Ricordiamo per esempio gli strumenti usati appunto in Facebook, LinkedIn, Twitter dove è possibile distribuire a bassissimo costo un particolare contenuto all'interno di un bacino pubblico definito in base a una moltitudine di caratteristiche e qui entriamo appunto nel discorso della profilazione operata dai social network cioè quello strumento che permette secondo il quale noi abbiamo appunto un'identità digitale e i social ci identificano secondo dei profili particolari a seconda delle pagine ovviamente che noi andiamo a visionare ci propongono delle pubblicità ad hoc e soprattutto ci propongono delle pagine per esempio Facebook ad hoc che ci possono interessare ma nello stesso tempo ovviamente per loro siamo una fonte importantissima di dati che loro costruiscono appunto secondo un processo di profilazione cioè costruiscono un profilo naturalmente questi profili dovrebbero rimanere per privacy appunto nei server di Facebook di Twitter ma è successo come appunto Cambridge Analytica ci insegna come questi profili sono stati in qualche modo usati fuori dai social e quindi usati naturalmente in propaganda politica quindi nella politica per far arrivare pubblicità mirate immaginiamo appunto nelle campagne elettorali non solo per l'americana ovviamente che forse ha in qualche modo segnato una data importante quella appunto di quattro anni fa con la salita poleteria quindi diventato Presidente Donald Trump ma la prossima appunto di qui a qualche mese novembre salta la campagna elettorale come tante campagne elettorali che ci possono essere per esempio un fenomeno simile ma non di portata gigantesca come naturalmente è stato con l'americano si è avuto anche per le elezioni europee e quindi abbiamo stato attenti anche alle elezioni nostre regionali di più tra qualche mese quindi bisogna stare attenti appunto a chi possiede questi nostri profili perché sono tutta una serie di indicazioni che potrebbero essere utili che vanno dall'indicazione più semplice cioè ti faccio notare ti propongo una pagina che potrebbe interessarti a quello ovviamente più ingannevole anche penalmente per certi aspetti anche perseguibile che è quello appunto di lasciare delle tracce e questi nostri dati sensibili essere di dominio di alcuni strumenti che poi possono costruire ad hoc non più pubblicità ma proprio un bombardamento mediatico molto forte con fake news appunto di ogni tipo che però colpiscono ovviamente il nostro immaginario collettivo e durante la campagna elettorale americana esempio hanno girato molto in modo non corretto delle immagini che potevano sembrare talmente autentiche da non essere assolutamente messi in discussione che invitavano gli elettori a rimanere a casa perché avrebbero potuto comunque votare via sms questa è una notizia falsa al 100% perché in America non si può votare via sms e quindi è stata costruita perché? per il discorso che facevamo prima cioè Trump non voleva che gli elettori di Clinton e della Clinton andassero a votare e quindi i social sono stati bombardati da questa campagna elettorale per far rimanere a casa poi quel giorno avrebbero scoperto che non si poteva votare via sms però ormai era fatto il discorso e ovviamente sono stati individuati i quali cioè quelli che all'interno del grande galassio dei social avevano per varie ragioni avevano mostrato simpatie per la Clinton per il loro profilo nel loro profilo erano degli elettori più di Clinton che di Trump e appunto a questa questa porzione di elettorato non sarebbe mandata tutta una serie di fake news come queste immagini costruite e false al 100% costruite proprio per portare questi elettori a rimanere a casa in quel giorno e quindi a non votare per la Clinton come vedete quindi è importantissima la conservazione è importantissima la conservazione dei nostri dati personali vediamo ecco questo era insomma l'indicazione e questo può essere appunto importante i testi che abbiamo preso in considerazione sono questi in particolare il secondo quello di Paolo l'attivissimo lo prenderemo in considerazione con più attenzione nella prossima video lezione